Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Siamo qui per la cena di Natale, sia per lo staff Multirente Italia che Matti. Per Matti abbiamo Oscar, Giorgia, Giovanni e Luca, manca Marco perché ha avuto un problema. Per Multirente partiamo da Jonathan, Massimo, la Simo, la Marti e che vi devo dire? L'Asia e Leo e ringrazio tutti per gli sforzi fatti in questo anno, per avermi sopportato per come è andata l'annata perché insomma non è stata facile e niente e ora passo la parola a Massimo per un saluto. Rigorosamente col bicchiere in mano, alziamo comunque i calici perché siamo qui per festeggiare, mi faccio prendere dalla mano e allora un bel brindisi alla Matti e alla Multirente a tutti noi, auguri, Buon Natale e tanta salute. Grazie Grazie a tutti, grazie. C'è nient'altro da aggiungere. Se non del vino. Esatto, è stato un anno complicato ma un anno che comunque sia ci ha dato la possibilità di conoscerci e di continuare a rimanere uniti. E' questo un po' l'obiettivo del viaggio. Brava Giorgiana, brava. E poi Massi ovviamente non sono Multirente ma anche Matti, l'officina Matti che è fondamentale per la gestione dei mezzi della Multirente. Si ringrazia Luca in prima persona che è il nostro direttore. E poi abbiamo la nostra tecnica dell'elettronica, la nostra Giorgia. Poi abbiamo il nostro gommista specializzato Oscar. E poi abbiamo il boss che ogni tanto si rompe con gli ombali però dai. Allora, serata molto bella, tutti molto felici e niente. Brava Asia! Brava! Visto! Brava! Brava! Mi raffreddiamo! Siamo divertiti molto. Spondo anche per Timona perché non mi sembra carico. No, l'ho detto prima, l'ho detto siamo contenti di essere qui stasera. Comunque mattina è forse il secondo secondo me. E buon Natale. Buon Natale! Bravi, bravi! Buon Natale! Buon Natale! Amore!